Pensiero del giorno. Riconosco almeno una buona qualità in tutti quelli che incontro oggi. Trovo Dio in ogni relazione. Quando vedo il lato positivo di ciascuna persona, i miei rapporti rispecchiano questo dono. Più osservo Dio e il bene negli altri, più li vedo in me stesso. Scava per trovare Dio. Dio è in ogni persona della tua vita, anche se ti sembra che non sia così. Come un minatore che trova l'oro, tu puoi scoprire il divino in ogni rapporto. Il tuo casco da minatore è equipaggiato con la luce dell'intenzione di vedere almeno una buona qualità in ogni persona. Tutti hanno almeno una caratteristica positiva, che è visibile a chi ha il cuore e la mente aperti. Spesso le persone che sembrano meno amabili sono quelle più bisognose di un minatore come te per trovare Dio. Sappi che scoprirai un tesoro in ogni persona che incontrerai oggi. La tua missione di guarigione porta gioia in molti cuori, specialmente nel tuo.